Il ristorante di Vico e Quenze cerca uno chef dei partiti, rinomato hotel 5 stelle lusso cerca addetti per la colazione in costiera amalfitana. La nostra agenzia per il lavoro cerca uno sviluppatore informatico a Castellammare di Stabbia ed infine per una struttura alberghiera di Braiano in costiera amalfitana si cerca un facchino di reception. Bentrovati con il tg lavoro di Time Vision, il format che ti mantiene sempre aggiornato su tutte le offerte di lavoro presenti sul territorio nazionale. Come anticipato dai titoli andiamo a vedere i requisiti delle offerte di lavoro proposte. Time Vision cerca per un cliente operante nel settore ristorativo di Napoli uno chef dei partiti. La risorsa si occuperà di gestire le varie partite di cucina dalla dispensa alla verifica della mise en place. I requisiti richiesti sono esperienza pregressa nella mansione presso ristoranti, conoscenza della cucina polivalente, soprattutto quella tradizionale e residenza in zone limitrofe, l'orario di lavoro è full time e la sede di lavoro è a Vico e Quenze. Time Vision cerca anche per un rinomato hotel 5 stelle lusso addetti al servizio colazione per la stagione 2023. Le risorse dovranno essere candidati giovani e affidabili. I requisiti richiesti sono conoscenza della lingua inglese, predisposizione verso il cliente e buona presenza. L'orario di lavoro è full time e la sede di lavoro è a Praiano, in provincia di Salerno. Ed ancora si ricerca uno sviluppatore informatico per lo staff interno di Time Vision, agenzia per il lavoro accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I requisiti richiesti sono conoscenza PHP e JavaScript, conoscenza database relazionali e conoscenza dei sistemi di versionamento. La sede di lavoro è a Castellammare di Stabbia, in provincia di Napoli e l'orario di lavoro è full time. Ed infine Time Vision cerca per un cliente titolare di struttura alberghiera un facchino di reception. La risorsa si occuperà di ricevere gli utenti della struttura a movimentare i bagagli e garantire la pulizia della reception. I requisiti richiesti sono esperienza anche breve nella mansione, conoscenza della lingua inglese e manualità con gli strumenti di pulizia ambientale. La struttura mette a disposizione per i non residenti, vitto e alloggio. L'orario di lavoro è full time su tre turni e la sede di lavoro è a Praiano, in costiera amalfitana. Sei interessato ad una di queste offerte? Allora clicca il link che vedi nell'info box oppure visita il nostro sito lavoro.timevision.it